Di Bassolino parleremo quando sarà il mio avversario, per adesso Bassolino deve fare la campagna elettorale per vincere le primarie, poi ho sempre detto Bassolino rappresenta una fotografia della vecchia politica, la fotografia di chi ha distrutto la città di Napoli e la regione Campania, noi ancora oggi paghiamo i danni di quella stagione politica, lui è stato il monarca della monnezza, lo dico chiaramente, è colui che è il principale responsabile di una stagione dei rifiuti, noi abbiamo tanti limiti, tanti difetti, abbiamo fatto errori, non siamo isolati, sicuramente siamo isolati dalla coppia Bassolino-Lettieri, siamo isolati dal sistema, siamo isolati dalle cricche, dalle lobby, dagli affari, da quelle clientele, massa di consulenze che abbiamo trovato quando siamo arrivati, dai politicanti che utilizzavano Palazzo San Giacomo come casa loro e non come casa del popolo, da quelli sono isolato, ma sono orgoglioso di essere isolato da quelli, invece questa è un'esperienza autonoma che vive tra la gente, ecco ne abbiamo dato voce in questi anni tra mille problemi a chi la voce non ha mai avuto e quindi non vedo l'ora, lo dico sinceramente, di fare la campagna elettorale contro Bassolino-Lettieri, ma è presto perché loro stanno facendo da mesi una campagna elettorale vecchia maniera e vecchio stile, noi stiamo continuando a lavorare, come ogni giorno, quindi non mi faccio trascinare in questa campagna elettorale, quando inizierà vediamo se sarà Bassolino, sarà una bella campagna elettorale, ci confronteremo e vinceremo le prossime elezioni.